Giada, una splendida affermazione, riviviamo la tua gara. È stata una gara dura, partita in terza fila, quindi tutta in recupero. Era un circuito anche difficile per recupero delle posizioni, quindi sono soddisfatta che alla fine ho vinto una bella gara. Che tipo di percorso era alla fine? Come andava affrontato? Una gara molto veloce, infatti la partenza era decisiva. Io sono contenta che sono riuscita a recuperare, però non è stato semplice. Comunque complimenti agli organizzatori. Una dedica per questa vittoria? La dedica alla mia famiglia che mi porta sempre alle gare, al team Lapierre e a Paolo Garniga, il presidente della squadra.